In Italia dal 2001 un 39enne marocchino è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato per sette mesi l'anno, ma i 1500 euro circa che guadagna mensilmente non gli permettono di pagare un affitto. Per questo lo scorso 14 febbraio, dopo oltre un anno di morosità, è stato sfrattato insieme alla moglie e i due figli di 3 e 6 anni che l'hanno raggiunto nel 2016, dall'appartamento mestrino in cui vivevano in Biaciardi. Non volevo andare fuori perché non io dove vado, mi hanno detto se non vai da solo ti portiamo via i figli oppure ti portiamo via per forza. Così la famiglia ha iniziato a vivere in furgone finché un amico non li ha ospitati per qualche giorno, poi un altro amico a Noale e ora si trovano a Maerne fino al 30 aprile con le spese sostenute dai servizi sociali, ma c'è un problema per i bambini. E' lontano e la moglie non riesce a portarli tutti e due insieme perché è pesante per lei. E quindi ho dovuto portare quello che va a alimentare e l'altro lo lascio a casa. E questo, quando vado al servizio sociale continuano a dirmi, devi trovarti tu la soluzione, noi non possiamo farti niente. Ma Caruash non sa come fare. Io sto chiedendo un aiuto da servizio sociale, io lavoro sette mesi e anche se trovo l'affitto a 400 euro, a 450, col lavoro che ho io non ce la faccio per il caro della vita. Io sto chiedendo una casa popolare che pago 180, dipende dal mio ridito che ho.